Ieri abbiamo cominciato a parlare di serie e in particolare abbiamo cominciato a parlare di serie a termini di segni costanti. Torniamo un attimo sulle serie in generale, alcune proprietà che valgono per tutte le serie adesso le scrivo subito perché non dobbiamo dimenticarci che le serie sono successioni, sono le successioni delle somme parziali, quindi per esempio se io vado a fare somma per n che va da 1 a più infinito di lambda volte a con n, cioè prendo una serie, suppongo che somma per n che va da 1 a più infinito di a con n sia convergente che la somma faccia da s, secondo voi quanto farà la somma di questa serie? Farà lambda s, cioè le costanti si possono portare pure, ok? Perché si possono portare pure? Perché se io faccio la somma fino a k, somma per n che va da 1 a per k che va da 1 a n, seglia con k, di lambda volte a con k, beh questo è uguale a lambda per la somma per k che va da 1 a n, seglia con k, questa è uguale a chi con n, quindi la somma parziale della serie di sopra e questa è uguale a lambda s a n, la somma parziale della serie di sopra, però io so che s con n per n che tende a più infinito converge a s, lambda vale lambda e quindi k con n converge a lambda s, ok? per lo stesso motivo, lo scrivo qua sopra, per lo stesso motivo se la somma di a con n per n che va da 1 a infinito fa s, quindi ho due serie convergenti, e se vado a fare la somma per n che va da 1 a infinito di c con n dove c con n è uguale ad a con n più b con n per ogni n, quanto farà questa somma secondo voi? questa fa s, questa fa t, ogni termine è la somma di questi due, farà s e si giustifica allo stesso modo, questo lo fate per esercizio, ricordatevi che questa è una successione sompa parziale converge a s, questa è una successione sompa parziale converge a t, la successione dei valori sommati converge a s più t, la successione somma converge a s più t, qua se la successione dei sompi parziali converge a s, lambda volte per quella successione converge a lambda s, quindi queste sono proprietà banali però, diciamo vale la pena di scriverle, sono esattamente lo specchio del fatto che vi ricordo che una serie è innanzitutto una successione, la successione delle somme parziali, o, torniamo adesso alle nostre serie a termini segno costante, voglio utilizzare questa lavagna, la mia piccola, andiamo a vedere il teorema del confronto, cosa dice il teorema del confronto? allora, il teorema del confronto, questo è fondamentale, è facilissimo da capire però è fondamentale che lo capiamo, allora io a questa situazione ho a con n minore o uguale di b con n maggiore o uguale di zero, però mi è, allora, quando vado a fare la somma della serie degli a con n, cosa otterrò? un risultato minore o uguale della somma della serie dei b con n, più precisamente, se la somma della serie dei b con n è finita, allora, allora, anche la somma degli a con n, che non può superare questa, deve essere finita pure lei, se invece, se la somma per n che va da 1 a più infinito degli a con n diverge positivamente, perché stiamo parlando di una serie di termini di segno non negativo, o solo, o con meggio diverge positivamente, allora, anche la serie fatta con i termini più grandi, diverge pure lei, è chiaro? i termini b con n sono tutti più grandi degli a con n, ovviamente quando andiamo a fare le somme, sia per le somme parziali, sia per le somme di tutta la serie, avremo questo tipo di disuguaglianza. Questa disuguaglianza ha senso, anche se una delle due diverge, perché, ripeto, nel caso delle serie a termini di segno negativo, non negativo, le serie o convergono o divergono positivamente, però, se diverge positivamente questa, e quindi qua c'ho più infinito, in particolare diverge pure questa, e quindi avrò più infinito maggiore uguale più infinito. Se invece è finita questa, deve essere finita, come questa. La dimostrazione banale, se io vado a scrivere, S con n, cioè la somma per k che va da 1 fino a n, degli a con k, questa è chiaramente il minore uguale, la somma per k che va da 1 a n, dei b con k, perché una somma con la tende più grande mi darà un risultato più grande, e questa la chiamo t con n. poi io so che t con n converge a un certo limite t, questo limite, ripeto, sta, diciamo, in 0 più infinito, incluso, diciamo, in 0 più infinito, unito più infinito. Cioè il limite può essere finito, non negativo, oppure più infinito. E questa qua, converge a S, anche S sta, dello stesso, diciamo, può essere finito più infinito. Però quello che sappiamo, è che siccome la successione s con n è più piccola la successione t con n, quando passo al limite, il limite S è meno o uguale del limite t. Questo vale sia che i limiti siano finiti, sia che uno dei due sia più infinito, sia che tutti e due, cioè in particolare S sia più infinito, se S è più infinito, anche t deve essere più. Chiaro? Quindi, qui nella dimostrazione. Ritorniamo sul teorema del confronto. Cosa dice il teorema del confronto? Dice che se sommo cose più grandi, ottengo un risultato più grande. Stiamo parlando di tutte le quantità positive. Non nel senso che se le quantità non sono positive non sia una vera la disuguaglianza. Quello che non è vero è che potrebbe non esistere la serie, potrebbe non essere sommabile con delle due. No? Se a con n è minore uguale a b con n, qua le due serie sono sicuramente, essendo i termini non negativi, o sommabili o divergenti positivamente. Ma se diverge questa, diverge pure questa. se converge questa, converge pure questa. Se diverge questa, questa non lo so che fa. Potrebbe divergere, potrebbe non divergere. Non so se è chiaro. Questo risultato sarà sempre più grande che questo. Quindi, se questa diverge, positivamente, per forza, anche questa deve divergere. se questa converge, questa non può divergere, altrimenti avrei questo più grande. Se questa converge, questa non lo so se diverge. Se questa diverge, questa non lo so se diverge. Chiaro? E' semplice, eh? Non è che ci sta niente di complicato. Allora, andiamo a vedere di stabilire. Questo si chiama tema del confronto, perché è utile a stabilire il carattere di alcune serie, di molte serie. Cominciamo con vedere la serie armonica. la serie armonica è la somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n. Io dico che questa serie diverge e adesso lo dimostriamo. somma io dico andiamo a fare questa somma somma che va da 1 fino a 2 elevato alla n di 1 su 4 quindi non prendo una somma parziale qualunque ma prendo una somma parziale che ha l'indice 2 alla n facciamo un esempio S2 è uguale a 1 più 1 mezzo S4 è uguale a 1 più 1 mezzo più 1 terzo più 1 quarto S8 2 alla 3 fa 8 fa 1 più 1 mezzo più 1 terzo più 1 quarto più 1 quinto più 1 sesto più 1 settimo più 1 ottavo quindi non prendo tutte le somme parziali prendo solo quelle che sommano un numero di termini pari a una potenza di 2 allora andiamo a vedere quanto fanno allora questa è uguale a 3 mezzi 3 mezzi è maggiore di 1 mezzo questo è uguale a 3 mezzi più 7 dodicesimi uguale a 3 per 6 è 18 25 dodicesimi che è maggiore di 1 che è 2 mezzi io dico che quest'altra sarà maggiore di 3 mezzi per quale motivo? ecco adesso cominciamo a ragionare questo pezzo qua questo pezzo qua era maggiore di 1 questo pezzo qua è maggiore di 4 ottavi perché 4 ottavi? perché vedete che i termini scendono? allora se voglio sommare questi 4 termini sicuramente ottengo un risultato maggiore dovremmo calcolare 4 volte l'ultimo termine l'ultimo termine è più piccolo quindi i termini sono 4 l'ultimo termine vale 1 ottavo quindi questa somma qui è maggiore di 4 ottavi ma 4 ottavi fa 1 mezzo allora questa è la maggiore di 1 questo è maggiore di 1 mezzo S8 è maggiore di 3 mezzi allora supponiamo di aver dimostrato che S2 alla K sia maggiore di K mezzi per induzione per induzione supponiamo andiamo a vedere chi è S2 alla K più 1 S2 alla K più 1 è uguale a S2 alla K cioè più cioè io devo sommare tutti i termini fino a 2 alla K più poi allora prima sommo i termini fino a 1 su 2 alla K poi faccio 1 fratto 2 alla K più 1 più 1 fratto 2 alla K più 2 più 1 fratto 2 alla K più 3 fino ad arrivare a 1 fratto 2 alla K più 2 alla K che fa? 2 alla K più 1 allora perché l'ho scritto così 2 alla K più 2 elevato a K più 1 immaginate per esempio se questa era 16 se K era 4 2 alla 4 faceva 16 allora qua avevo sommato i reciproci dei numeri naturali fino a 16 poi qua c'era 11 settesimi 1 fratto 16 più 1 1 fratto 16 più 2 1 fratto 16 più 3 quando arrivo a 1 32esimo è 1 fratto 16 più 16 2 alla K più 1 è il doppio di 2 alla K quindi lo posso scrivere come 2 alla K più 2 alla K ora secondo voi quanti termini sono questi qua? quanti sono? fino al posto quanti sono? per come li ho scritti dovreste rispondere subito quanti sono? 1 2 3 sono 2 alla K termini quindi tutta questa roba qui tutta questa roba qui è maggiore di 2 alla K termini per l'ultimo termine perché l'ultimo termine è il più piccolo quindi sommando cose più grandi ottengo un risultato più grande quindi 1 fratto 2 alla K più 1 no no torniamo all'esempio se K era 4 i termini sono 16 e l'ultimo quello più piccolo vale un 32esimo quando vado a fare 16 per un 32esimo quanto fa? un mese quando vado a fare 2 alla K per 1 su 2 alla K più 1 quanto fa? ma allora per induzione quindi S2 elevato a K più 1 è maggiore di S2 elevato a K più un mezzo ma questo è maggiore S2 elevato a K per ipotesi induttiva era maggiore di K mezzi più un mezzo fa K più un mezzo che la cosa giusta vedete qua c'è K più 1 e qua c'è K più 1 qui c'è la K e qua c'è la K quindi otteniamo pertanto concludo qua S2 alla K o 2 alla N qua ho usato la lettera K ma lo devo usare è maggiore o uguale di N mezzi per ogni N che succede quindi quando faccio il limite per N che tende ad infinito quando fa questo limite quando fa questo limite faccio tendere N infinito questo va N mezzi è quanto tempo è infinito più grande tende ad più infinito ora però uno dice però tu mi hai fatto il limite non di tutte le somme parziali ma solo quelle che avevano un indice potenza di 2 alla N potenza di 2 ma adesso basta ricordarsi il fatto che la successione S con N è una successione monotona non decreta perché siamo in una serie a termini di segno positivo quindi anzi in merità siccome i termini sono tutti positivi S con N è strettamente crescente allora il limite di S con N come si fa il limite delle successioni crescente? è uguale all'estremo superiore ma se io faccio l'estremo superiore non di tutti ma solo di S2 alla N allora qua c'è scritto l'estremo superiore della successione S1 S2 S3 S4 S5 e così via là c'è scritto l'estremo superiore della successione S2 S3 S4 S8 S16 è una successione estratta quindi questa successione qui ha meno termini se ha meno termini l'estremo superiore non può superare questo perché l'estremo superiore di un insieme è più piccolo è il minimo dei maggioranti e quindi sarà un numero minore o uguale ma questo faceva più infinito e allora anche questo deve fare per forza più infinito più infinito quindi conclusione il limite di S con N è uguale più infinito finito la dimostrazione la serie diverge allora ripeto l'idea della dimostrazione l'idea della dimostrazione è che i primi due termini fanno addirittura tre mezzi poi se ne prendo altri due di termini ho almeno un altro mezzo poi se invece di due parto da un quinto ne prendo quattro c'ho quattro ottavi almeno anzi di più di quattro ottavi quindi c'è un altro mezzo poi se adesso prendo parto da un nono ma ne prendo otto c'è almeno un altro mezzo perché avrò otto sedicesimi più di otto sedicesimi e allora un mezzo alla volta è chiaro che qua l'indice cresce moltissimo s2 s4 s8 s16 quindi vedete l'indice della somma parziale cresce molto più s2 alla n generale qua c'ho l'indice che cresce molto più velocemente di questo infatti la serie diverge ma molto lentamente però quando l'indice è arrivato a 2 alla n qui di mezzi ne ho accumulati almeno n un mezzo alla volta quando l va infinito questo va infinito e anche questo va infinito ma uno dice questa è una sottosuccessione non fa niente per le successioni monotone il limite o fatto su una sottosuccessione o fatto su tutta la successione è esattamente viene esattamente lo stesso ok viene esattamente lo stesso anche se la successione fosse stata se la successione è monotona non decrescente anche nel caso fosse stata convergente per esempio se convergeva a 3 allora tutta la successione se una sottosuccessione di una successione monotona converge a 3 tutta la successione converge a 3 questo è un caso particolare la sottosuccessione diverge e quindi tutta la successione diverge e quindi la serie che è la successione delle sottosmazioni diverge pure lei ci siamo fino a qui questa serie diverge perché praticamente io riaggregando i termini prima ne sommo 2 poi ne sommo 2 poi ne sommo 4 poi ne sommo 8 poi ne sommo 16 poi ne sommo 32 eccetera eccetera ogni volta che sommo un gruppo ottengo almeno un mezzo però di gruppi quando ne posso fare? di termini ce ne sono infiniti quindi ne posso fare quanti ne voglio quindi la somma alla fine deve le somme parziali le posso far diventare grandi quanto voglio e quindi la serie diverge ok? allora vediamo un po' somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro abbiamo dimostrato ieri che era questa che faceva ed era addirittura minore di 2 era compresa tra 2 e 3 e mezzo questo l'abbiamo dimostrato ieri come il geva invece somma di 1 su n quanto fa? diverge allora proviamo a vedere somma di 1 su n cubo per n che va da 1 a più infinito cosa posso dire? un po' meglio o diverge? ma dove vedete che diverge? 1 su n cubo 1 su n quadro e 1 su n chi è più grande? questo è più grande questo è più grande però nel confronto la serie di questi converge la serie di questi converge pure a lei addirittura posso dire che la somma è minore di 2 perché la somma è minore o uguale di questa che è la minore di 2 posso dire più precisamente se adesso vado a fare invece somma per n che va da 1 a più infinito di 1 fratto la radice di n cosa posso dire? diverge perché diverge perché questo è più piccolo di 1 su radice di n e allora se diverge la serie di quelli dei termini più piccoli diverge anche la serie dei termini più grandi chiaro? il problema del confronto quindi vediamo un po' andiamo a fare questa somma per n che va da 1 a più infinito di 1 fratto n radice di n cosa fa questa? cosa fa? converge diverge allora dimostreremo in seguito che questa converge ma in base al termine del confronto non possiamo dire nulla perché questo qua 1 su n radice di n è più grande di 1 su n quadro ed è più piccolo di 1 su n quindi questa diverge la serie di questi questa tende a 0 se fate come successiva ma se fate la serie diverge la serie di questi converge e questa e mezzo non lo so non lo so perché è più grande di una serie convergente ma è più piccola di una serie divergente il tema del confronto in questo caso non mi è di aiuto è chiaro? quindi se io vado a fare somma per n che vada 1 a più infinito di 1 su n all'alfa io so che questa si chiama serie armonica generalizzata alfa è un numero positivo positivo perché se non è positivo 1 su n all'alfa non tende a 0 e noi sappiamo che per pretendere che sia convergente almeno i termini devono essere infinitesimi se vi ricordate la condizione necessaria per la convergenza di una serie è che il termine generico sia infinitesimo quindi alfa è maggiore di 0 con il concetto adesso andiamo a vedere che cosa succede a questa serie qua andiamo a vedere cosa succede se alfa è minore o uguale di 1 che succede che la serie diverge perché se alfa è minore o uguale di 1 1 su n all'alfa è maggiore o uguale 1 su n n all'alfa è minore o uguale di n quando è che converge? in realtà vedremo che converge per alfa maggiore di 1 ma in base al teorema del confronto noi possiamo dirlo solo se alfa è maggiore o uguale di 2 attualmente se alfa è maggiore di 1 minore di 2 non lo sappiamo attualmente poi lo dimostriamo che convergerà che convergerà chiaro? chiaro? ok allora per risolvere lasciamo la scritta qui questa serie perché adesso la risolviamo la risolviamo con l'aiuto di un criterio che si chiama che sarà il primo che facciamo perché è quello anche un po' più utile gli altri criteri che faremo cioè quello della radice e quello del rapporto sono nei casi concreti presso che non dico inutili perché in alcuni casi servono però diciamo quando la serie converge grazie al criterio del rapporto che grazie al criterio della radice in genere si poteva quasi vedere a occhio comunque andiamo a fare per primo questo criterio un po' più complicato che si chiama criterio di condensazione che Ok. Criterio di condensazione. Cosa dice il criterio di condensazione? Dice che io ho una successione A con N monodona non crescente e che il limite di A con N valga 0. Essendo la successione monodona non crescente automaticamente siccome il limite è 0 gli A con N devono essere tutti positivi e che se anche un A con N fosse negativo il limite non potrebbe fare 0. Quindi la situazione è questa. I termini, cioè gli addendi, sono una successione monodona non crescente, positiva non crescente e infinitesima. Quindi siamo nel caso delle serie a termini di segno costante. Allora, la somma di questa serie è finita se e solo se la somma di quest'altra serie è finita. perché è importante questa cosa? Perché mi fa controllare il fatto che una serie converga prendendo un termine ogni tanto. Cioè, chi ci sono? Ci sono solo i termini che hanno come indice una potenza di 2 ma ciascuno di essi viene moltiplicato per la rispettiva potenza di 2. Quindi, in poche parole, questa serie è qui. Quindi se e solo se questa qua è finita. A parte scrivo, quindi questa converge se e solo se questa converge. a parte scrivo che la somma per n che va da 1 a più infinito che dura alla n per a con 2 alla n chi è? è 2 a con 2 più 4 a con 4 più 8 a con 8 più 16 a con 16 più 1t, 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 1t cioè invece di andare a fare a con 1 più a con 2 più a con 3 più a con 4 eccetera eccetera io vado a fare a con 2 ma lo moltiplico per 2 poi a con 4 ma lo moltiplico per 4 a con 8 ma lo moltiplico per 8 poi risommo. Se questa qua viene finita se questa somma viene finita viene finita pure questa se viene finita questa viene finita pure questa quindi è se e solo se quindi io non ho bisogno per sapere che questa converga basta controllare la convergenza di questa allora per vedere diciamo diciamo a che cosa questa può essere utile un 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 criterio del genere allora andiamo a vedere andiamo a vedere supponiamo di avere sommatoria per n che va da 1 a più infinito di 1 su n all'alfa di 1 su n all'alfa con alfa maggiore di 1 proviamo a applicare il criterio in questo caso questa è finita se e solo se è finita quest'altra sommatoria per n che va da 1 a più infinito allora qua cosa devo fare 2 alla n fratto chi è a con 2 alla n? 1 fratto 2 alla n alla alfa ma questo chi è? è 2 elevato alla 1 meno alfa tutto elevato ancora alla n ma questa che cos'è? è esattamente una serie geometrica se alfa è maggiore di 1, 2 elevato alla 1 meno alfa è uguale a 1 fratto 2 alla alfa meno 1 se alfa è maggiore di 1, questo esponente è positivo questo numero è maggiore di 1 e quindi questo qui è minore di 1 questo qui lo chiamate lambda questo è uguale a sommatoria di lambda alla n e quindi, siccome è una somma sappiamo anche quanto fa questa serie 1 fratto 1 meno lambda ci dice qualcosa su questa serie? no, non ci dice la somma questo teorema riguarda solo la convergenza questo teorema ci dice questa converge quindi questa converge è stato utile? certo che è stato utile perché io adesso posso andare qui e dire che se alfa è se alfa è maggiore di 1 la serie converge già lo sapevamo che convergeva quando alfa era maggiore o uguale di 2 ma adesso, grazie a questo criterio sappiamo che converge anche quando alfa è un qualunque numero maggiore di 1 ok? ok adesso il problema è che questo criterio lo dobbiamo dimostrare allora per dimostrare questo criterio per dimostrare questo criterio guardate andiamo a fare questa allora andiamo a fare a chiamare s con 2 alla n uguale a con 1 più diciamo s con n le sono le somme parziali di questo quindi prendiamo le somme parziali della prima serie l'indice però potenza di 2 quindi a con 1 più a con 2 più a con 3 più a con 4 più a con 5 più a con 6 più a con 7 più a con 8 più più a con l'indice più a con l'indice uguale a m allora guardiamo un po' i primi due termini come al solito fanno fanno parte a sé allora io dico che però la somma di questi due termini è maggiore di 2 volte a con 4 però dico anche che è minore di 2 volte vabbè qua siccome la successione non è strettamente decrescente è solo tecualmente dei decrescenti i termini potrebbero per un po' essere tutti uguali è minore di 2 volte a con 2 perché? i termini sono 2 l'ultimo termine è a con 4 quindi questa somma è più grande di a con 3 che è più grande di a con 4 più a con 4 che è a con 4 è più grande di 2 volte a con 4 ma d'altro canto ambe i due termini sono più piccoli di a con 2 e quindi la somma è più piccola di 2 volte a con 2 per lo stesso motivo questa somma è maggiore di la somma di questi 4 termini è maggiore di 4 volte a con 8 e da quest'altra parte è minore o uguale di quindi 4 volte a con 4 allora scriviamo solo l'ultimo blocco l'ultimo blocco è a2 alla n-1 più 1 più a con 2 alla n immaginate che a n sia 10 quindi qua è a con 1024 l'ultimo blocco dove inizia con a con l'indice 513 cioè 2 alla 9 più 1 quindi in questo blocco quanti sono i termini? questi termini sono 2 alla n-1 per a con 2 alla n mentre quello di sopra posso dire che è minore o uguale di 2 alla n-1 per a con l'indice 2 alla n-1 ok? quindi io cosa posso dire? questo termine poi è maggiore o uguale di a con 2 posso dire allora chiamiamo t con n la somma per k che va da 1 a n di 2 alla k per a con l'indice 2 alla k quindi chi è questa somma? è 2 a con 2 più 4 a con 4 più l'ultimo è 2 alla n per a con 2 alla n la disuguaglianza le disuguaglianze che io ho stabilito là cosa mi dicono? mi dicono che s2 alla n è maggiore o uguale della somma di tutti questi ma chi è questa? se ci fate caso s2 alla n è più grande è più grande beh se andiamo a fare t con n vedete che t con n è esattamente il doppio di questo perché se moltiplico per il 2 qua viene esattamente 2 a con 2 più 4 a con 4 più 8 a con 8 e così via l'ultimo viene tutta la n per a con 2 a n quindi s2 alla n è maggiore o uguale di un mezzo t con n d'altro canto s2 alla n è minore o uguale di a con 1 più a con 2 cioè se voglio maggiorare se voglio minorare a con 1 lo posso trascurare perché il soldo è sicuramente positivo ma se voglio maggiorare i primi due termini che non ho maggiorato li devo mettere a parte più poi ci rimane questa somma qua ma questa somma qua è esattamente t con n proprio t con n? no ci manca l'ultimo termine quindi è t con n meno 1 quindi questa è la disuguaglianza che ho trovato allora a questo punto se t con n tende a più infinito un mezzo t con n tenderà a più infinito ma quindi s con 2 alla n tenderà a più infinito più infinito allora ragionando esattamente come prima s con n tenderà a più infinito cioè sto dicendo se diverge questa diverge pure questa viceversa se s con n a tendere a più infinito in particolare s 2 alla n che è estratta tende a più infinito se una successione diverge qualunque successione estratta comunque diverge questo mi implica che t con n meno 1 tende a più infinito ma chi è t con n meno 1? è vero che è un'estratta di t con n però è anche vero vabbè prima di tutto anche t con n è una successione monotona quindi se un'estratta diverge pure la diverge ma t con n meno 1 non è un'estratta qualunque è l'estratta che ci manca anzi non è neanche l'estratta perché se questa la mettiamo per n maggiore o uguale di 2 questa se n meno 1 chiamate m è t con n quindi t con n tende a più se questa diverge anche questa qua diverge questi qua sono due numeri finiti quindi se diverge questa questa è più grande di questa meno ma con 1 meno 1 deve divergere ok quindi da queste disuguaglianze è chiaro che se diverge questa diverge pure questa se diverge questa diverge pure questa se converge questa converge questa converge questa se converge questa converge quella chiara? fine della dimostrazione quindi il criterio è stato dimostrato quindi per quanto riguarda la serie armonica generalizzata per quanto riguarda la serie armonica generalizzata sappiamo esattamente quando converge quando l'esponente alfa è maggiore di 1 converge quando l'esponente alfa è minore o uguale di 1 diverge ok? però andiamo a fare un altro piccolo esercizio per applicare in questo criterio di condensazione è possibile che ci siano delle altre serie che non sappiamo se sono convergenti o no io dico di sì dico andiamo a prendere questa serie qua somma per n che va da 2 a più infinito di 1 fratto n per il logaritmo naturale di n elevato ad alfa alfa è sempre un esponente positivo perché com'è messa questa roba qui 1 su n logaritmo n elevato ad alfa com'è messo rispetto a 1 su n ricordatevi che alfa è più grande di 1 che alfa è più grande di 0 il risponente è positivo beh non appena n è più grande di 3 logaritmo n è più grande di 1 questo numero che è più grande di 1 elevato ad un esponente positivo è più grande di 1 quindi n moltiplicato per una quantità più grande di 1 è più grande di n quindi quando passa al reciproco questa è più piccola d'altro canto questa non da 3 ma bisogna vedere la quale è indice in poi è più grande di 1 su n alla beta dove beta è un numero maggiore di 1 cioè se invece ci metto n alla beta cioè una potenza leggermente più grande di 1 qua ma la metto su n non sull'altro se n è abbastanza grande questo è più piccolo questo perché perché se faccio il rapporto questo diviso questo se faccio 1 su n alla beta fratto 1 su n per logaritmo di n elevato ad alfa questo fa n alla 1 meno beta per logaritmo di n elevato ad alfa o se preferite logaritmo di n elevato ad alfa fratto n alla beta meno 1 ma siccome beta è maggiore di 1 questo denominatore ha un esponente positivo n allora voi che cosa avete? avete una potenza del logaritmo qualunque sta sia fratto una potenza di n che ha un esponente positivo piccolo quando vi pare ma fissato adesso questo è un limite notevole lo potete fare anche mettendoci x invece di n per n che tende a più infinito questo limite tende a 0 qua potete applicare l'obito cioè una qualunque potenza del logaritmo non potrà mai crescere anche se qua ci fosse 10.000 e qua ci fosse 0,001 qualunque potenza di n con l'esponente positivo cresce più velocemente all'infinito di qualunque potenza del logaritmo il logaritmo è intrinsecamente più lento a crescere delle potenze di n esercizio fatelo con x che tende a più infinito applicate l'obito e vi verrà questo è un limite quindi in altre parole poi vedremo come ricordarcela questa cosa in altre parole io sto dicendo che questi termini qua sono compresi tra questi qui che mi danno luogo a una serie di per geni e questi qui che mi danno luogo a una serie quindi come al solito anche in questo caso il teorema del confronto non mi serve perché se la serie di questi diverge questa non lo so che fare se la serie di queste converge questa non lo so andiamo ad applicare il criterio di condensazione allora è una almeno il logaritmo è una funzione monotona crescente è una funzione monotona crescente quindi questo qua sono termini che effettivamente decrescono a z quindi si può applicare il criterio di condensazione il criterio di condensazione se gli a con n non scendono diciamo sono una successione di termini positivi ma che sargono e scendono non si può applicare però in questo caso si può applicare quindi la serie per n che vada a 2 a infinito di 1 fratto n logaritmo di n elevato ad alfa converge se solo se converge quale serie la serie per n che vada a 2 a infinito qua ci devo mettere 2 alla n poi che cosa ci devo mettere? al posto di n ci devo mettere 2 alla n quindi 2 alla n per logaritmo di 2 alla n elevato ad alfa adesso vedete che questo e questo se ne va questo chi è? è la serie per n che vada a 2 a più infinito logaritmo di 2 alla n è n per logaritmo di 2 quindi qua mi viene n per logaritmo di 2 tutto elevato ad alfa logaritmo di 2 elevato ad alfa è una costante n elevato ad alfa n elevato ad alfa quindi questa qua quant'è che converge? la costante si porta fuori sommatore di 1 sull'alfa la somma della serie converge quando alfa se è solo se alfa è maggiore di 1 perché questa è diventata a meno di una costante è diventata la serie armonica generalizzata quindi come vedete quando vado a fare questa serie se alfa è maggiore di 1 la serie converge se alfa è minore o uguale di 1 la serie diverge